Si svolgeranno domani le elezioni del nuovo Consiglio Provinciale di Salerno, retto dal Presidente Michele Estrianese. Le urne saranno aperte dall'ore 8 alle ore 20 nel seggio elettorale costituito presso la sede della provincia di Salerno, via Roma. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica e possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio Provinciale i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica. L'elezione del Consiglio avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori ad 8 e non superiori a 16, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35esimo giorno antecedente, quello della votazione.